La mamma era andata a svegliare i figli per mandarli a scuola, ma Beatrice, 10 anni, non ha aperto gli occhi. Suo fratello, di tre anni più piccolo, era agonizzante, dramma, sassoferrato, infrazione aspro, che forse deve il suo nome agli inverni rigidi e alle temperature che di notte scendono di diversi gradi sotto lo zero. Ad uccidere la bambina il monossido di carbonio sprigionato da una stufa a legna che si trovava al piano terra dell'appartamento, collegata all'impianto di riscaldamento dell'abitazione. Il gas letale potrebbe aver saturato gli ambienti più vicini raggiungendo poi la camera dei ragazzini, oppure si ipotizza una perdita dalla canna fumaria. Gli adulti presenti in casa non sono rimasti intossicati. Il papà operaio si era svegliato molto presto ed aveva già attaccato il turno in una delle fabbriche del Fabrianese quando la moglie si accorta del dramma. In casa anche la nonna materna dei bambini, a dare l'allarme attorno alle 7.30, è stata proprio la madre dei fratellini. Il più piccolo è stato portato a Fano, in camera iperbarica. Le sue condizioni vanno migliorando, per la ragazzina invece non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco, anche con mezzi e personale, NBCR, il 118 e i carabinieri della stazione di Sassoferrato. La salma della piccola vittima è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il PM ha disposto l'autopsia. La stufa invece è sotto sequestro. Brave persone, dicono alcuni amici, accorsi sul posto della chiesa evangelica di Fabriano, frequentata dai genitori dei bambini. Una sorta di grande famiglia che ora si stringe nel dolore e nella preghiera per la morte della piccina. In località Aspro di Sassoferrato, dunque, la tragedia ha costata la vita a una bambina di 10 anni. Grave il suo fratellino. Qualche giorno fa c'è stato un altro caso di intossicazione da monossido di carbonio. In quel caso alcuni ragazzini di Matelica all'interno degli spogliatoi del campo sportivo. Per il caso di Matelica del 9 gennaio, fortunatamente i 18 baby calciatori del settore giovanile, tutti tra i 12 e i 14 anni, i loro allenatore e bice che avevano accusato mal di testa e senso di sbandamento, se la sono cavata dopo le cure ricevute all'ospedale di Fabriano. Per 8 è stato disposto il trasferimento a Fano e sono fuori pericolo. Il gas, in questo caso, si sarebbe sprigionato dall'impianto di riscaldamento degli spogliatoi, gestito, fa sapere il comune, da una ditta di Recanati incaricata alla manutenzione fatta, a quanto risulta, lo scorso ottobre.